Un saluto dalla redazione del Tg della Mobilità. Quella in arrivo sarà una domenica all'insegna dello sport in città al mattino a partire dalle 8.30. È in programma infatti una mezza maratona che attraverserà il centro storico, il Lungotevere, il quartiere Flaminio e il rione Prati. Previste una gara competitiva di 21,975 metri e una corsa non competitiva di 10 chilometri. Partenza e arrivo saranno rispettivamente in Via Petroselli e in Vico Iugario. Previste modifiche ai percorsi di 62 linee del trasporto pubblico. L'elenco completo è consultabile su romamobilita.it Grazie a tutti.